Invece ci terrei molto invece a ringraziare Beppe Sala ad essere vicino a Beppe dal punto di vista personale, umano e anche politico. È un grande sindaco ed sta affrontando una vicenda particolare. Io mi auguro che sicuramente ne esca più presto e comunque a lui o a tutta la nostra fiducia e il nostro sostegno per continuare in un'opera di guida di questa città che sta trasformando Milano in una delle città più belle e meglio organizzate d'Europa. Quindi non dovrebbe rimantersi? Anche in un eventuale secondo mandato? E questo dipende da lui, per quanto mi riguarda certo. Grazie a tutti. Ciao. Grazie.